Cari amici appassionati di fotografia, in questo video volevo farvi vedere la Nikon FM2 macchina leggendaria che per la prima volta è riuscita a portare il tempo più alto insomma battendo il record di velocità arrivando a un 4 millesimo di secondo in maniera meccanica e io vi avevo già fatto vedere una Nikon FM2, ve l'avevo fatta vedere in versione cromata questa è in versione nera ma perché voglio farvela vedere? Perché questa qui presenta le tendine diverse come sapete la FM2, e se non lo sapete andate a vedere l'altro video mi raccomando ha le tendine in titanio ma come potete vedere questa qui non ha le tendine in titanio a nido d'ape ma bensì ha le tendine in alluminio ebbene la Nikon FM2 è stata prodotta dal 1982 fino al 2001 e dal 1988 è stata introdotta la versione N, New come la riconosciamo la versione New? innanzitutto dal numero di serie dietro, come vedete mi avvicino ancora un po' inizia con la lettera N e in più il sincro flash è stato portato da un duecentesimo di secondo a un duecentocinquantesimo di secondo le vecchie versioni non New sono tutte con l'otturatore in titanio a nido d'ape invece le versioni New dovrebbero essere quasi tutte con tendine in alluminio ma a dire la verità alcune sono state prodotte lo stesso in titanio quindi le abbiamo in entrambe le versioni, le tendine, nella versione New scusate il gioco di parole comunque detto questo questa è una macchina veramente molto professionale perché a parte che è completamente meccanica quindi abbiamo i tempi che vanno da un secondo fino a un quattro millesimo di secondo più la posa B tempi completamente meccanici autoscatto meccanico quindi è una macchina che non può lasciarci praticamente mai a piedi poi è stata costruita in una particolare lega di alluminio veramente molto resistente e le permette di lavorare a temperature che vanno dai meno 40 gradi fino ai 50 gradi sopra lo zero senza che mai si possa praticamente inceppare quindi che dire è una macchina veramente straordinaria da questo punto di vista si possono montare i vari motori l'MD11, l'MD12 si possono montare i vari dorsi datari che dire abbiamo anche solo una piccola batteria anzi abbiamo due batterie LR44 che alimentano però soltanto l'esposimetro detto questo della Nikon FM2 esiste anche una versione che si chiama FM2 Dragon che ho scoperto da poco devo fare una precisazione allora esiste la macchina Nikon FM2 ve la faccio vedere qua sul telefono quella vedete dell'ottantesimo anniversario guardate che bella vedete con l'ottanta inciso sopra ma esiste anche quella dell'anno del drago che è tipo questa qui vedete qui ha un simbolino del drago vedete e in più dietro vedete c'è scritto anno 2000 year 2000 ecco questa macchina è molto interessante quindi abbiamo anche queste versioni molto particolari della FM2 ecco ci tenevo a fare questa precisazione visto che costa tra i 2000 e i 3000 euro una cosa del genere follia però che bella macchina fotografica non avrei mai voluto sapere che esistesse perché ora la vorrei però comunque diciamo che è una cosa proprio da bisogna proprio amare il brand per insomma spendere quei soldi perché di sicuro non la vai ad usare una macchina insomma che costa così tanto per paura magari di rigarla comunque detto questo tralasciando la nuova versione new e la versione dragon che sono spettacolari per chi volesse gli faccio rivedere come funziona la macchina fotografica o per chi non ha visto l'altro video e detto ciò insomma andiamo a vedere più da vicino come funziona questa Nikon FM2 ed eccola qui la nostra bellissima Nikon FM2 in versione nera in versione N qui ce l'ho equipaggiata con l'85 mm F2 come vedete è molto compatta anche con questo con questa focale allora come funziona la macchina fotografica innanzitutto bisogna inserire il rollino e attenzione a non tirarlo su sforzandolo perché rischiate di romperlo ma bensì la macchina ha una sicura quindi bisogna spingere questa levetta vedete si spinge a questa piccola levetta e si può tirare sul pomello una volta tirato su si apre il dorso troviamo le tendine in alluminio a scorrimento verticale invece per le vecchie versioni quelle in titanio e basta insomma presso a pellicola e l'interno è molto molto classico ovviamente il dorso è removibile e intercambiabile dietro troviamo l'oculare con la classica filettatura per o il copre obiettivo o per i fili scusate il correttore di ottrici qua lo spazio per il pro memoria come vi ho detto questa è una macchina fotografica meccanica qui abbiamo tutti i tempi di scatto guardate che bello vedere qui segnato il 4 millesimo di secondo attenzione che la leva fa anche da accensione spegnimento dell'esposimetro e soprattutto fa da blocco del tasto di scatto vedete così lo posso premere se chiudo non posso più premerlo poi la sensibilità si seleziona sollevando quindi guardate io devo sollevare la ghiera sollevo la ghiera e vado a selezionare la sensibilità scusate se mi muovo sensibilità minima che 12 invece massima eccola qui perfetto andiamo a rimettere una sensibilità normale ed ecco qua quindi questa è la ghiera dei tempi di qua ovviamente dall'altro lato c'è solo il nottolino di riavvolgimento sopra abbiamo la slitta per il flash col contatto a caldo e il piccolo contatto che serve per illuminare il led che si trova qua dentro che ci indica che il lampo è pronto abbiamo la presa pc sync abbiamo l'autoscatto che è di tipo meccanico abbiamo la leva della profondità di campo tasto di sgancio dell'obiettivo e vi faccio sentire l'autoscatto di carico e premo come vedete abbiamo anche qui l'alzo dello specchio per evitare le vibrazioni dovute allo sbattimento dello specchio quindi tantissima roba a differenza della versione precedente qui non possiamo togliere il il simulatore del diaframma purtroppo questo è fisso quindi gli obiettivi pre-AI questi qui non li possiamo montare ce ne faremo una ragione dopodiché vi faccio sentire magari un po' il suono dello scatto faccio sentire il 4 millesimo faccio sentire un ottavo e vi faccio sentire il secondo veramente piacevole che dire l'otturatore meccanico è veramente bellissimo perché ad esempio faccio sentire la FE il secondo vuoto invece la FM che dire io sono un grande fan delle macchine meccaniche vero è che qui non abbiamo nessun automatismo quindi non abbiamo la priorità di diaframmi come ce l'abbiamo su quelle elettroniche ma tant'è pazienza insomma direi che va benissimo così abbiamo la leva per il doppio le doppie esposizioni vi faccio vedere basta tenerla premuta cioè tirarla indietro questa leva qui nera spero si possa vedere vedete e posso fare i doppi scatti vi faccio vedere di fatto cosa succede al suo interno se noi non la tiriamo vedete il nottolino gira il nottolino gira e si carica le tendine ma se noi la premiamo indietro guardate vedete si alzano solo le tendine ma la pellicola non avanza ora faccio uno scatto normale e vedete qua gira tutto quindi questo è il metodo per fare le doppie esposizioni e comoda la levetta qui a portata di indice bene attenzione che la leva dell'autoscatto non si spinge in dentro come succede per la FE vedete sulla FE si spinge dentro ma questo serve per il blocco dell'esposizione in automatico ma qui non avendo l'automatismo ovviamente quella funzione non serve e non ce neanche e basta insomma penso di avervi detto tutto su questa Nikon FM2 è una macchina molto costosa perché costa tra i 300 e i 400 euro insomma dipende dalle condizioni ma insomma tra i 3 e i 400 euro è una macchina che secondo me li vale tutti perché se usiamo ottiche molto luminose ce ne sono c'è il 55 c'è il 58 Noct il 51 e 2 ce ne sono parecchie di ottiche luminose io direi che il millesimo della FM della M è un po' poco e il 2 millesimo ma anche il 4 millesimo secondo me tornano molto utili detto ciò penso che insomma penso di avervi detto tutto su questa macchina fotografica macchina molto professionale molto robusta che vale assolutamente la pena comprare se ne avete la possibilità io detto questo vi saluto fatemi sapere con un commento qua sotto se ce l'avete e se vi piace noi ci vediamo al prossimo video un saluto a presto